A liceo Sandro Pertini di Ladispoli sono in arrivo oltre 56.000 euro per garantire l'integrazione scolastica degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio. In particolare il finanziamento che corrisponde a quasi 3.000 ore di assistenza sarà interamente speso per retribuire il personale specialistico che si occuperà dei progetti. I fondi provengono direttamente dalla regione e sono finalizzati alla partecipazione attiva degli studenti disabili. L'obiettivo infatti è promuovere le pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo anche nella prospettiva dell'occupabilità e dell'occupazione. Gli interventi costituiscono quindi un indispensabile servizio alle famiglie per l'inserimento scolastico dei ragazzi e la loro crescita verso l'autonomia personale. La Pisana intende valorizzare e finanziare quei progetti che si concretizzano in un supporto specialistico mirato al miglioramento della qualità di vita dello studente e delle relazioni tra scuola e alunno.